Ciao Trader, siete su Scraping the Bull, video di analisi tecnica, quindi mille like per il prossimo. Attenzione che abbiamo un sacco di notizie da Gary a Biden, le guerre, Putin, Nasdaq in all time I, ma cerchiamo di spiegare che cosa sta succedendo, Bitcoin che va verso il terzo tocco. Attenzione, insomma tutto questo dopo, non la pubblicità come ho detto un'altra volta, ma dopo la sigla. Ricordatevi i mille like. Altro che pubblicità, qua tutto gratis, basta che mettete il like, ok? I mille like e siete a posto, non avete nemmeno una pubblicità. Detto ciò, attenzione a Bitcoin che sta andando a fare un bellissimo terzo tocco. Bellissimo, fra l'altro cos'è questo livello? Vi ricordate? Questo era il livello dove si era trovato un fantastico terzo tocco precedente che poi è stato fintato, quindi questo rimane una resistenza a superare, stiamo parlando di quota 45.700, ma sta appunto caricando molto bene. Secondo tocco, lavorato molto bene, primo tocco lavorato molto bene. La 5, che sarebbe meglio che andasse, non andasse a toccare ancora. Lema 5, questo è quello settimanale, per poi andare a rompere con un bellissimo terzo tocco. Qua avrebbe forza, riuscirebbe poi a avere tanta forza per rompere quota 46.000, quindi vedremo. Nasdaq ha toccato gli all-time high, mancava un 4%, insomma mancava poco l'altra volta, ha toccato, ha fatto dei nuovi massimi. Ma credo che questo sia la prima volta, la prima volta nella storia, che il Nasdaq è agli all-time high, mentre il ceto medio è agli all-time low. Cosa vuol dire? Come mai dico questa cosa qua? Il ceto medio ha, quindi quando il mercato è agli all-time high, l'americano medio dovrebbe avere anche all-time high di soldi da parte, no? Invece no, siamo agli all-time high sul Nasdaq e il ceto medio è agli all-time low dei risparmi, cioè è senza soldi. Perché dico questo? Perché praticamente secondo me, ceto medio americano morto, finito, ceto medio e i poveri ancora più poveri. Questo rialzo qua è, che credo che sia la prima volta nella storia, solo di super ricchi e ricchi. E vi spiego anche il perché. Allora, avrei un video su Gary, ma lo metto dopo, prima facciamo vedere questo qua. questo qui Biden. Parole direttamente sue, parla dell'Ucraina, andiamo avanti. Ci sono 50 paesi che aiutano l'Ucraina. 50 paesi che aiutano gli Stati Uniti hanno messo 75 miliardi. Gli altri hanno messo 100 miliardi. Attenzione a quel che dice adesso. Ecco, il 90% di quello che mandano all'Ucraina viene speso negli Stati Uniti. Cioè in pratica armi, gli armi che mandano sono stati in utenza. Quindi c'è un business nel fare le guerre? Sì, com'è possibile, com'è possibile che qua ci siamo sugli all time high? Se l'americano medio è agli all time low? Com'è possibile? È possibile pompare il mercato in un altro modo? Allora, quantità di easing hanno fermato completamente, no? Perché la fede, sapete che sta puntando alla distruzione del mercato. Ma se si vuole pompare artificiosamente ci sono altri modi, fra cui le guerre. Avete visto? Ci inventiamo le guerre o comunque facciamo delle guerre, mandiamo i nostri... le nostre bombe, i nostri armamenti e indovina chi gonfia l'economia. E appunto le guerre gonfiano l'economia. E riusciamo ad andare qua. Cioè non penso che sia mai successo nella storia che il mercato fosse in all time high e la persona media è in all time low. Mai successo. Poi andiamo a capire anche altri discorsi sulla guerra, perché non è che sono finite le guerre. Trump, anche lui, prepara un attacco alla Nato e all'Europa, vuole sanzioni per chi non investe il 2% di PIL nella difesa, Italia compreso. Cioè anche Trump giustamente dice infatti qua non è che se dopo io divento presidente e poi dopo crolla tutto perché io non voglio più fare guerre. Comunque gli stati devono investire il 2% di PIL nella difesa. Cosa significa? Che anche se Trump non va a fare altre guerre, come ha fatto nell'altro mandato, non ha fatto nessuna guerra, comunque bisogna tirare sull'economia perché sennò lui diventa presidente e poi implode tutto, no? Invece lui dice no, io voglio che tutti i paesi mettono il 2% del PIL, che ci sia guerra o no, quindi questo è un modo per guadagnare anche senza fare delle guerre, ok? Quindi hanno due metodi diversi. Lui vorrebbe fermare le guerre, ma continuare a investire perché gli Stati Uniti guadagnano un botto di soldi e questo poi dopo va all'economia. Quindi è un modo per gonfiare l'economia e comunque fare le guerre. Poi andiamo a vedere cosa dice Putin. Putin attaccare la Nato, solo fesseria di Biden, perché Biden va a dire che Putin, attenzione a Putin, perché se vince, se noi lo facciamo vincere in Ucraina, quindi finiamo la guerra lì, lui dopo attaccherà la Nato. E lui dice no, sono fesseria, a noi non ci interessa nulla, noi vogliamo semplicemente quella parte russa dell'Ucraina, punto. Però capite che, insomma, è un po' un problema. Prima di andare avanti con le altre notizie, comunque torniamo indietro. Questo era solo per spiegare l'assurdità di questo All Time I, di cui noi comunque ci fermiamo, ci muoviamo con le conformazioni, ma ragazzi è assurdo, veramente è una cosa assurda. Andiamo a vedere però quanto riguarda Bitcoin però, che noi qua stiamo tutti aspettando il nostro Gary, no? Gary ovviamente sta cercando di perdere più tempo possibile per far passare questo ETF. Poi vedremo se effettivamente ci sarà questo grande rush, finalmente le società potranno comprare Bitcoin, vedremo se è vero o no, ma intanto si sta aspettando che lui dica qualcosa. E lui ovviamente sta cercando di, uno, di dire di no, e due, eventualmente, se deve dire di sì, di perdere tempo. E guardate in questo video cosa dice. Cioè praticamente sta sputtanando il mondo cripto, dicendo che è tutto pieno di scam, di cose che non stanno rispettando le regole. fraude, poi il riciclaggio, insomma. L'exchange che non rispettano le regole, il riciclaggio, scam. Quindi lui ha paura, lui sta dicendo che appunto il mondo cripto fa schifo perché poi comunque tanta gente viene scammata e poi non hanno rimborsi, non sono tutelati, è tutto così. Un po' però ovviamente noi sappiamo benissimo che non è tutto così. Ovviamente è pieno di scam, ma come è pieno anche di scam nel mondo azionario e dopo ho una notizia proprio su Nicola per farvi capire anche quanto fa schifo il mondo azionario. Però lui sta tenendo duro, lui sta cercando ancora di fare il possibile per non attivare questi, non approvare questi ETF. Quindi andremo a vedere. Nel frattempo ovviamente è quasi meglio che lui non dica niente e faccio durare all'infinito questa decisione in modo che Bitcoin continua a salire, ma insomma prima o poi lo dovrà dire il suo sì o il suo no. Vedremo. Tutti danno ormai per scontato visto l'andamento di Bitcoin del sì, ma vedremo. Lui sta lottando. Andiamo a finire le altre notizie. Michael, questo è il solito che vi sto facendo vedere che lui dice che appunto ogni volta che hanno finito di alzare i tassi e adesso hanno finito di alzare i tassi le banche sono implose comunque il mercato è andato in recessione. Pesante fra l'altro. Vedremo. Censimento anche qua big problem per l'Italia. L'Italia perde popolazione in vecchia stranieri a 48,7%. Quindi nonostante i stranieri aumentano per fortuna perché il calo ovviamente per fortuna quelli che vengono a lavorare in altri posti io conosco molto bene l'Australia hanno bisogno di X persone che vadano a lavorare cercano e fanno entrare quelle persone che servono per il lavoro non a caso senza carta. Quello è il modo giusto in cui bisognerebbe fare le cose comunque con un calo di ecco questa è la cosa popolazione residente è scesa a 58,9 milioni con un calo di 1,2 milioni rispetto al 2011 se siamo più di un milione di persone in meno rispetto al 2011 e attenzione anche Musk qua è venuto a parlare con la Meloni eccetera lui era preoccupatissimo ho parlato fa troppo ridere a quell'intervista perché lui era preoccupatissimo dicendo che l'Italia è uno dei paesi peggiori sotto questo aspetto qua che lui è veramente preoccupato per il futuro i giornalisti dicevano ma sì ma magari fra 50 anni 100 anni lui ha detto no no è una cosa di adesso se non si fanno più bambini l'Italia caput ed è un problema grosso ragazzi pensioni nostre vabbè sarà difficile ma i nostri figli i nostri figli e anche il discorso di prima io sono un papà mio figlio ha 5 anni quindi non devo pensare solo a me stesso ma ogni bravo papà deve pensare al futuro dei propri figli avere il Nasdaq negli all time high con il ceto media negli all time low sinceramente a me fa veramente schifo cioè che i ricchi siano diventati più ricchi e che i super ricchi sono diventati ancora più super ricchi e che la gente normale non ha più nulla ha perso potere d'acquisto ha perso non ha avuto aumenti adeguati dello stipendio eccetera eccetera ragazzi a me fa schifo questa società così mi fa veramente schifo da papà è per forza che poi non fanno i figli se continuate a uccidere il ceto medio ma chi fa i figli chi si può permettere di fare i figli è diventato un lusso fare i figli cina valore delle vendite immobiliari è arrivato finalmente lo dicevo da tanto tempo ovviamente insomma qualcosa sta arrivando è calato del 25% a novembre quindi abbiamo in cina che crolla del 25% cioè un quarto ecco è tantissimo il 25% negli Stati Uniti invece le vendite di nuove case di bottiglia meno 12 cioè nasdaq va agli all time high ma si sta vendendo e sta iniziando a crollare anche lì il mercato immobiliare chi se ne frega continua a andare su tanto qua droghiamo il mercato con le guerre miliardi ancora miliardi poi mettiamo il 2% del pilo obbligatorio da parte vai 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 droghiamo all'infinito all'infinito stop immediato degli incentivi per le elettriche le elettriche questa è una grande la Germania che senza gli incentivi ragazzi le elettriche non si vendono c'è poco da fare e la Germania alza bandiera anche perché vendere le elettriche in Germania è distruggere il proprio mercato Germania è fortissimo e dipende tantissimo dal vendito delle sue automobili che sono dei top di gamma ma che nella versione elettrica non vendono e fanno schifo e quindi sta iniziando perché se metti gli incentivi chi ci guadagna è la Cina non ci guadagna di sicuro la Germania anzi prende bastonata perché non vende le proprie macchine e quindi sta iniziando a dire basta alle elettriche poi vedrete anche un'altra notizia ah questo questo è veramente assurdo Nancy Pelosi che non è per nulla Pelosi ha comprato 5 milioni di call option di NVIDIA cioè tranquillamente la gente qua in Parlamento compra fa trading quindi giustamente dopo andremo a vedere NVIDIA com'è il grafico ma lei ogni volta fra l'altro è anche molto brava quindi dove dove va a comprare lei di solito poi sale perché perché tanto lei sa prime degli altri no quindi adesso magari uscirà qualche notizia a favore della IO o favore di NVIDIA che NVIDIA sapete ha avuto un po' dei problemi sui chip non chip quindi magari lei sa che uscirà una nuova legge che sarà a favore di NVIDIA quindi cosa fa compra prima ed è questo illegale pensate quanto faccia schifo gli Stati Uniti è una schifezza incredibile Solana questo fa troppo ridere allora Solana Sagafoni mi ricordo quando è uscito fuori questo telefono di Solana che non ha cagato nessuno è proprio una un telefono mediocre medio basso che costava 1000 dollari costava un botto qua dice che costava 600 vabbè comunque era un telefono abbastanza assurdo aveva Web3 ma cosa aveva dentro e dentro aveva degli airdrop di Bonk nel frattempo Bonk è andato to the moon e quindi adesso il telefono è introvabile perché tutti vogliono comprarsi il telefono addirittura su ebay si vende a 5000 dollari perché dentro c'è l'airdrop di Bonk che adesso vale un botto quindi in pratica chi si era comprato il telefono prima e non avesse e ha venduto Bonk sugli all time non solo ha avuto il telefono gratis ma ci ha pure guadagnato un botto di soldi e quindi adesso è incredibile questa cosa qua che sarà il futuro adesso usciranno i telefoni con dentro la shitcoin che nel caso in cui andasse bene il telefono non solo verrà gratis ma guadagnerà anche un sacco di soldi quindi saranno la moda dei telefoni con lo shitcoin dentro che deve ancora esplodere che uno va lì e spera come al solito è una tecnica dello sperare che la shitcoin di turno possa esplodere mi tocca parlare anche della Ferragni per il fatto di Safilo Safilo che è puntato a Piazza Fari dice basta quindi è il primo che dice che taglia le gambe alla Ferragni ragazzi molti non sanno che cosa è successo che molti non seguono ma è una cosa terribile ragazzi è una schifezza incredibile e mi dispiace molto perché insomma mi stavano anche simpatici questi due comunque fatturavano in Italia quindi due che fatturano in Italia mi dispiace però veramente è una schifezza un genitore hanno due figli che razza di esempio potranno mai essere cioè questi e purtroppo lei poi ha dichiarato io non ci potevo credere che lei ha già dichiarato di essere colpevole e cos'è la cosa quindi per Natale vendo il panettone quindi la la società la la balocco dice come possiamo fare e vendere più panettoni cerchiamo un influencer quindi contattano e farà niente e dicano boh quanto quanto vuoi per vendere panettoni un milione va bene allora ci toccherà vendere a tre volte di più e tu come pensi di poter vendere tutti questi panettoni per giustificare questo un milione che ti diamo ah niente diremo che i soldi in più quindi da 3 euro e 50 a 9 euro quei soldi in più andranno in beneficenza ok balocco aveva già dato 50 mila dollari quindi investe 50 mila dollari in beneficenza balocco e dice ferrani tu quanto vuoi per pubblicizzare questa cosa qua un milione quindi già questo fa abbastanza schifo però se lei dice va bene io faccio il semplicemente il panettone di natale ci metto il mio nome lo pubblicizzo qual è il problema tu mi dai un milione io devo cercare poi di giustificare questa cosa quindi farli vendere eccetera e lì andava bene ma invece l'hanno pubblicizzato come una cosa benefica quindi la gente è andata veramente a comprare anche perché loro hanno credibilità avevano credibilità e quindi sono stati lì dicendo oh compriamo sto panettone che costa un botto di soldi più di due volte il prezzo e perché tanti soldi andano invece i soldi erano già andati là eh eh ragazzi ho parlato con il mio avvocato qua stiamo parlando di truffa qua c'è tutto per essere una truffa cioè fregare qualcuno per guadagnare tu quindi freghiamo il popolo dicendo che i soldi dai 3 ore 50 in su andranno in beneficenza cosa non è vero lei non ha messo nulla in beneficenza nulla in beneficenza ma Balocco ha messo 50.000 ma prima quindi non dipendeva dalle vendite insomma tutto sto schifo qua e adesso ragazzi qua si sono bruciati definitivamente io non capisco come possono salvarsi e poi si parla solo di 100.000 follower persi ma roba questi qua ragazzi ci sono le società Safilo ha detto basta cioè qua non so le altre società chi è che investe più in una persona del genere cioè qui proprio l'implosione rischia un'implosione clamorosa chi è che le prende a fare a fare qualcosa in tv oppure cioè questi ragazzi io non so come potranno uscire da seguire molto importante ma purtroppo hanno e lei ha già dichiarato che effettivamente ha sbagliato lei dice un errore di comunicazione ma ovviamente io pensavo cioè l'unica cosa che potesse fare è dire eh non è colpa mia io non lo sapevo è il mio staff mi hanno raggirato era l'unico modo per cercare di avere qualche uscita e invece no non ha fatto niente quindi amen mi tocca anche parlare quindi Ferragni caput implosione purtroppo Ferragni e poi seguirà anche Fedez mi sa stop dalla Germania al Cybertruck della Tesla ecco perché ragazzi questo è incredibile guardatelo guardatelo bene praticamente è uno spigolo no Cybertruck è uno spigolo vivente la Germania dice già che guarda che qua in Germania noi non faremo mai a provare questa cosa qua come mai Tesla nella sua forma attuale senza modifiche importanti quindi senza modifiche importanti non è immatricolabile in Germania spiegando poi che ci sono forti dubbi che la Tesla possa soddisfare i requisiti come quelli per la protezione dei pedoni se ci pensate se ci pensate torniamo un attimino indietro cioè questo più che una macchina è una fettatrice cioè pensate se ti sfiora questo spigolo poi non so se avete visto i video ma sono spigoli vivi che ti sfiora questo se sfiora una persona lo fa taglia a metà quindi anche qua andremo a vedere la Germania è il primo a dire ma ragazzi è impossibile matricolare sta macchina qua fra l'altro ho letto notizie che hanno dei problemi anche con le batterie che in realtà ne possono produrre solo 20.000 e non i famosi 150.000 vedremo cos'è qua poi FedEx voi sapete che non è FedEx ma FedEx che spedisce appunto il corriere molto importante noi lo stiamo seguendo dopo andiamo a vedere il grafico perché ci fa capire un attimino come sono le vendite eccetera e lui dice che ha abbassato la Guidance abbassato la Guidance significa che eh ragazzi qua si inizierà a vendere meno e noi inizieremo a consegnare meno punto quindi attenzione noi lo seguiamo proprio per quello dopo andremo a vedere il grafico ma questo è un segnale molto negativo Alphabet quindi dopo Airbnb che ha preso una mega multa anche Alphabet altri 700 milioni di doni per la casa Antitrust su negozi di app che insomma fanno un po' troppo da padroni da fenomeni perché comandano praticamente loro fanno quel che vogliono multa multa non si può esagerare anche qua sul discorso alle auto elettriche a chilometro zero ci sono 8.547 auto in matricolazione nel 2023 auto elettriche a chilometro zero ecco sono 8.547 in matricolazione 6.840 ancora in stock cioè ragazzi allora il chilometro zero sapete che cosa sono quando tu concessionaria vuoi raggiungere i bonus di vendita eccetera cosa fai se non riesci a vendere li compri lo stesso gli immatricoli quindi risultano come fossero venduti non lo sono sono dei chilometro zero dopo le vai a vendere con lo sconto ma nel frattempo poi tu incassi i bonus ok chilometro zero sono per quello si fanno quando non si vendono le auto e attenzione perché appunto state chilometro zero 8.5 ma ne sono rimasti 6.800 ragazzi le macchine elettriche non si stanno vendendo ragazzi è un problema enorme questa cosa qua Nike anche lui taglia le previsioni sono le 20 quindi guidance anche qua tagliata e quindi è crollato adesso noi Nike non lo sorghiamo ma ha fatto tipo meno l'11% una cosa del genere quindi anche Nike dice aia aia poi eccolo qua ah no questo è Iveco invece ottima notizia contratto da 120 milioni che è un ATM per 153 autobus elettrici ottima notizia Iveco in Italia bene ma sarebbe interessante capire effettivamente quante di questi 153 autobus quante della componentistica è italiana e quante è cinese perché non è come una volta che il camion potesse essere non dico 100% ma quasi costruito in Italia di questi autobus con le batterie eccetera da dove vengono? mettono solo il marchio? è interessante eccolo qua ecco la shitcoin mercati azionari il fondatore dei camion elettrici di Nicola è condannato a 4 anni per frode cioè questo sciacallo questo personaggio squalidissimo ha preso il suo camion ad idrogeno ha preso questo camion ha fatto un video facendo vedere che funzionasse effettivamente perché si diceva che era tutto era tutta fuffa non c'era niente che effettivamente funzionasse quindi lui ha fatto uno spot pubblicitario dove si vede il camion che sta andando poi hanno scoperto che questo camion è stato spinto giù da una discesa quindi praticamente il camion funzionava perché era in discesa e per questa cosa qua Nicola prima che si scoprisse questa cosa qua era andato to the moon noi lo scioghiamo poi vi faccio vedere che è andato to the moon poi è venuto fuori che questo è uno sciacallo quindi anche quindi caro Gary anche il mondo azionario è pieno di queste schifezze vi ricordo il nostro parmalat o bion mercati azionari veramente le cose ridicole shitcoin ne abbiamo anche noi ho finito andiamo velocemente a vedere il mercato perché noi comunque alla fine cosa ci interessa ci interessa le conformazioni qualsiasi cosa accade nel mercato ci interessano le conformazioni fra l'altro ragazzi avete visto questa settimana qua io ho pubblicato un solo trade per quanto riguarda il mondo cripto però questo è il mio PNL solo ieri credo di avere sì un Viagra e fra l'altro ragazzi pubblicherò molto meno i trade ma quelli che voglio pubblicare voglio fare come ieri appunto dove la pubblicazione del trade viene spiegato molto più nei dettagli quindi farò più di rado le pubblicazioni anche perché ragazzi cioè cosa volete di più 1460 post di trade 1460 post cioè quanti esempi volete c'è la place per neofti c'è la biblioteca c'è quante quante cose volete quindi adesso dal ho già iniziato in realtà quindi non dalla prossima già da adesso farò pubblicherò molti menu trade ma cercherò di fare di farli quando ho veramente tempo per spiegarvi un po' più nei dettagli meglio la cosa perché molti hanno detto boh pull non ha lavorato perché non ha pubblicato pubblicato una volta sola basta comunque questo è un bel 189% più 1900 euro e niente vedete poi chissà con che size ho fatto questi 1900 e niente la mia size è 1000 una settimana da 1000 perché 1000 1000 x10 io lavoro con 10.000 al massimo guardate qua c'è un bellissimo rottura 1000 al massimo e niente qua 1900 in più dopo li vado a togliere e torno di nuovo con i miei 1000 e faccio l'operazione in realtà poi io opero praticamente solo la mattina prima di aprire quei mercati azionali sapete è quel mio mercato principale ma comunque mi tolgo delle belle soddisfazioni anche qua importante capire che il trading non è una cosa semplice ok non è una cosa semplice ma non è impossibile come molti citrulli specie piazza affari dicono specie Milano Finanza dicono bene andiamo avanti andiamo a cercare conformazione perché questo è quello che ci interessa per avere per avere un PNL così bisogna solo aspettarle per le conformazioni e aspettare quelle belle ok io vedo spesso che tra le date su delle schifezze con dei grafici veramente che fanno schifo e poi dite ho beccato la finta ho fatto quella dai conformazioni quindi qua sapete meglio se andasse a toccare ancora questo EMA5 così andiamo a fare questo bel terzo tocco e poi dopo andiamo a vedere un attimino mensile mensile siamo estremamente to the moon estremamente bisogna riposare ragazzi c'è poco da fare andiamo a vedere time frame un'ora siamo sul supporto della 5 daily però avrò bisogno di attaccare qua giù andiamo a riposare andiamo avanti ragazzi le notizie sono durate un botto questo è Ethereum che qua sta riposando ha fatto una finta si l'ha fatto lo sputacchio anche qua però andiamo verso un terzo tocco prima dei massimi oh abbiamo avuto BNB che finalmente ha fatto la sua bella rottura ha rotto il suo bado ha rotto anche l'EMA60 nel settimanale ottima notizia per BNB anche se poi hanno bloccato le carte eccetera lo sapete noi siamo già spostati da baby da già un bel po' la carta funziona benissimo ragazzi noi quando sentiamo un po' odore di bruciato ci spostiamo poi eventualmente rispostiamo chissà comunque così possiamo anche andare short eccetera eccetera e questo chi è XRP vabbè dai solo conformazioni dopo andiamo a dire anche qualcosa a Bulbot Sol ancora Sol che esplode ma qua stiamo andando verso degli all time no assolutamente ma conformazioni oh la Juve la Juve che fra l'altro dovrebbe partire con un aumento di capitale credo proprio la prossima settimana c'è la novità poi sul calcio su un campionato loro insomma comunque questo è interessante questo è un interessante livello abbiamo qualche livello nei fan token questo è un bel livello cancelliamo è un bel livello perché è un bad ce la facciamo è un bad che poi diventa anche un terzo tocco di chi sta imparando ATM ok e tanto spazio sopra anche qua bar niente male mettiamolo qua qua possiamo abbassare un po' qua sono massimi sempre inferiori questo è un bel livello ma sì questo è un bel livello USTC no torniamo indietro un attimo USTC sì bel livello anche qua anche qua abbiamo un livello bad già fintato i livelli fintati sono meravigliosi anche qua abbiamo un livello bad da domani chi è questo? Jasmine livello bad già fintato no livello bad con i massimi tutte le vicinanze niente male si è già esploso anche qua chi stanno parlando TWT questo è carino un bel bad da domani un livello trigger poco più su tanto spazio molto carino questo è bello abbiamo un livello che ha già testato due volte anche oggi ieri oggi abbiamo un bel livello a questa time frame un'ora vedrete ha una bella conformazione esattamente esattamente stiamo parlando di MDX molto carino KP3R pure da domani abbiamo il livello bad oh dai KP3R senza EMA sopra molto bello senza averle EMA sopra praticamente abbiamo il via di conformazione senza EMA sono sempre le migliori senza EMA sopra abbiamo specie di terzo tocco qua c'è bella finta niente male ah questa è cro rimane molto interessante il livello fintato anche qua abbiamo un bel livello questo è SXP ah meme vabbè ci siamo liberati della 10 questo è sicuramente il livello trigger attenzione ci vorrebbe una giornata che non vada a superare i massimi domani giornate di riposo e dopo questo diventa interessante bello ah nasdaq bitcoin va bene andiamo avanti nasdaq quindi nasdaq oltai mai sapete già cosa ne penso oltai mai più brutto della storia anche standard impuls so che siamo in oltai mai anche qua no ancora no manca poco viagra viagra rotto della germania attenzione attenzione anzi mettiamolo questo è un livello short bellissimo questo è un bellissimo esempio di un livello short dopo un viagra molto bello anche piazza affari togliamo questo è piazza affari sì attenzione questo terzo tocco anche qua a scendere vedete c'è debolezza in Europa noi siamo quelli più massacrati da noi la recessione è già qua dobbiamo investire anche noi in guerre per avere degli old time mai fa veramente schifo questa cosa qua abbiamo avuto il rimbalzo della Cina ma avete visto il mercato immobiliare che conta tantissimo nella Cina crolla del 25% un quarto sparito quindi qua adesso nuovi minimi il dollaro 1.10 debolezza questo è un bel livello andiamo un attimo l'euro dollaro ragazzi questo è bello ha fatto comunque già la finta e ha chiuso comunque sopra il bad quindi questo livello qua diventa trigger per lunedì avete i compiti questo rimane un bel livello trigger eh sì eh sì e questo è un bad che non ha affintato perché è rimasto proprio alla fine a chiusura l'ha fatto e se torno sui massimi questo qua ci possiamo aspettare una bella accelerazione euro dollaro il petrolio fatto sul bel rimbalzino cioè ci sono dei problemi delle tensioni nel mar rosso quindi è fatto sul rimbalzo speriamo comunque non vado a infocarsi di nuovo l'argento ma soprattutto l'oro noi sapevamo già questo è il nostro bel rimbalzo e qua niente torniamo a livello degli ote mai precedenti tra l'altro mi ha fatto anche l'oratore di un bad gas piazza affari dopo andiamo a vedere sono dimenticato guardiamo se c'è qualche daily interessante sulle crypto questo è già rotto questo è già rotto guardiamo se c'è qualche fomo fomo mini fomo df cavolo questo è veramente esteso ci vorrebbe un terzo tocco dei massimi niente male stx questo l'ha già fatto no ok ottimo questo rimane un ottimo livello stx rimane assolutamente un ottimo livello trigger wow questo è bello adesso c'è un mini fomo grt ok anche grt stai facendo un'ora qua no non c'è niente rimane un bel livello questo è un livello trigger magari nei prossimi giorni metto la alerta anch'io va bene chiediamo allora eravamo qua ucg tra l'altro questo è un bel bad questo è un bellissimo livello cavolo ucg mi devo scrivere pagina nuova ah poi non non so se riuscirò a lavorare in questo periodo comunque ucg anche bmps torre a 10 nexi ditemi un po' voi se non è un bel livello questo anche nexi mettiamo l'alert questo chi è ah generale generale mi rifiuto favorente schifo guardatelo a time frame 5 minuti che schifezza manca 30 ecco mi rifiuto di operare su una schifezza del genere questo è un ottimo esempio su che cosa non lavorare mai aprite il grafico di generali una schifezza umana spm saras è molto good diventa un terzo tocco scriviamo s r s caduta la penna race attenzione 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 questa è crollo incredibile però ragazzi teniamoci conto che qua sale basta da quando è nato la sua nascita ha fatto il 900% quindi vediamolo settimanale insomma da un po' che non va non va a testare la 60 settimana vediamole il daily vuole andare a 200 la 60 la 50 scusa qua siamo al mercato azionario questo è un bel dritto per dritto comunque vediamolo time frame un'ora abbiamo un bel livello anche per il rimbalzo ok abbiamo un livello per il rimbalzo eventuale non anticipiamo ma comunque abbiamo un livello ivg ah telecom continua ti ho visto che è operato in questi giorni continua il tudomunisia uh ten doppio tocco dei massimi eh sì anche qua ten bel livello anche Enel c'è un bel livello ldo ldo wow ovs ottimo livello ma qua soprattutto lo short eh questo è un bellissimo livello short abbiamo un livello importante di rottura ovs short che ovs si può andare short ovs piazza affari quindi da tenere d'occhio sa juve che va in aumento di capitale questa è con la notizia della lega aveva fatto un accordo forse c'era qualcosa l'anti wefa insomma boh qualche notizia non è che segue tanto il calcio però tiscali ah qua ho operato un sacco tiscali questa settimana qua bellissima rottura crp abbiamo un bel livello supporto e la resistenza e la vicinanza anche qua abbiamo un bel livello anche brembo anche brembo bel bad questo è bre segnalato apple apple va a testarla 5 che potrebbe non tenere tesla comunque siamo distantissimi dagli old time mind dai conformazioni qua abbiamo un bel livello short space space ah invidia 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 ecco la pelosi la pelosi ha visto questo bel livello 503 eh sì è un bel livello già 500 qua a tenere d'occhio la pelosi lucid pronto xpev xpev niente purtroppo abbiamo perso xpev peccato nio eccolo nicola però vediamolo col mensile eccolo qua il suo camion credevano funzionasse 700% poi perso tutto spinto giù da una discesa rendetevene conto al nasdaq una società che valeva miliardi con un camion finto che hanno spinto giù dalla discesa dicendo che andava ad idrogeno ragazzi incredibile altra che shitcoin almeno le shitcoin ti dicono che è una shitcoin ti dicono che è una cagata tazzo chi è questo qua ah Ford continua continua Ford è la distruzione delle macchine elettriche e il ritorno delle macchine a motore che poi se va su Trump mi sa che lui andrà a premiare proprio queste cose qua spot ah bello ah MicroStrategy si l'avevo visto l'altra volta già in rottura MicroStrategy infatti lo avete visto in Bitcoin guadagna il doppio investendo direttamente in MicroStrategy avete visto ve lo fate vedere l'altra volta fa sempre il doppio il 2x ma l'altro campione che va ancora di più è Coinbase quindi si è stato puntando al yes di Gary i due vincitori sono Coinbase e MicroStrategy che vanno il doppio della velocità di Bitcoin senza dover restare sull'exchange e senza paura che vi rubano i vostri Bitcoin moderna molto male vabbè però c'era una notizia positiva che non si stava più concentrando sul Covid ma su altre farmaci quindi dai accettiamo questo rimbalzo va bene questo è un bel livello short chi stiamo parlando? Disney chi è questo qua? FedEx FedEx ha fatto un bel meno 12% ragazzi qua in un attimo vedete sbagli dei numeri in un attimo tac in un attimo ci ritorna alla realtà in un attimo booking Viagra amo le conformazioni Viagra comunque vi consiglio di studiare ci sono un sacco di video gratuiti andate su YouTube andate andate su YouTube cliccate qua e qua trovate tutti i link da Bullfemin noi siamo ufficialmente la comunità più clonata nel settore della finanza perché noi abbiamo credibilità quindi non cercateci via web venite direttamente nei nostri link altrimenti verrete truffati ve lo dico prima verrete truffati da finti Bull e qua trovate tutto fra cui gratis 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 trading per neofiti quindi playlist per neofiti tecniche di trading e c'è proprio indicato prima la 1 poi la 2 poi la 3 poi la 4 grazie ed è gratis e senza pubblicità io guadagno nulla da questi video qua nulla allora torniamo qua anche se no ha un bel livello short questo niente male ah sempre il VHS si sempre questo niente male teniamolo a livello arma continua ad andare su ragazzi ci vediamo finito buon Natale a tutti comunque sui social vi aggiornerò ci sentiamo anche per Natale insomma vediamo farò un sacco di cose mi raccomando un passo alla volta approfittate del tempo per studiare aiutare il prossimo questi sono i principi della Google Family ciao ciao